Buongiorno ragazze, tempo a Milano indescrivibile, cioè faccio davvero fatica a descrivervelo perché ieri da dopo pranzo è iniziato praticamente costantemente a piovere, ha smesso solo per brevi istanti per poi ricominciare nuovamente, tutta la notte ha piovuto, adesso c'è un momento di quiete però ingannevole secondo me perché è spuntato pure un leggero sole ma non lo so quanto durerà e niente, non si sta più davvero capendo nulla con questo tempo, tempaccio, clima, cioè non sai più come vestirti non sai più veramente cosa fare. Cosa più importante, ho letto invece del terremoto a Napoli ovviamente sono stata molto in pensiero, volevo assicurarmi che state bene, so che sono state messe in pratica tutte le varie procedure per mettermi in sicurezza, però volevo appunto assicurarmi che state bene immagino la paura grandissima che avete provato tutte le varie procedure per mettermi in sicurezza, però volevo appunto assicurarmi che state bene immagino la paura grandissima che avete provato